Sentirsi comunità significa trovare sempre qualcun altro che ti tende una mano e evita che tu rimanga indietro. Significa offrire un servizio sanitario che sia in grado di funzionare, significa offrire la possibilità di curarsi. Noi nella nostra regione da troppo tempo abbiamo dimenticato la possibilità di curarsi perché la regione gestisce la sanità con una mentalità ottusamente e limitatamente burocratica. Riuscire ad immaginare una sanità che non abbia più una mobilità passiva di 100 milioni potrebbe consentirci di assumere medici, infermieri e potremmo consentire agli abruzzesi, a quel 16% degli abruzzesi che è costretto ad andare fuori regione per operarsi, gli potremmo consentire di farlo qui. Qui abbiamo un ospedale di Giulianova che potrebbe essere benissimo specializzato, non una specializzazione per intensità di cura. Nessuno può immaginare ragionevolmente di mettere a Giulianova l'ospedale di secondo livello, ma possiamo specializzare il nostro ospedale? Come si può specializzare Santomeno? Come si può specializzare Atri? E' questo quello che noi vogliamo fare, una rete ospedaliera che attraverso la specializzazione torni all'eccellenza.